Trapani impreciso del Favero che salva sul rigore il Taranto strappa un punto nella gara contro il Trapani allo Iacovone il secondo e ultimo turno interno a porte chiuse 4-3-3 per la formazione Ionica 4-4-2 per il team di Aronica. Del Favero si supera già all'ottavo minuto c'è un miracolo su un tiro ravvicinato da parte di Canutè. Ventiseiesimo azione dubbia in area di rigore Ionica fallo di gomito di Shiba terzo rigore subito dal Taranto in quattro gare di campionato un rigore apparso ai più molto generoso. Si presenta dal dischetto Lescano del Favero prima parla poi aiutato dalla traversa riesce a neutralizzare il pericolo. Finisce così il primo tempo 0-0. Ripresa minuto 67 Caric in area di rigore serve Ciotti botta sicura palla che tocca il palo un rigore in movimento sbagliato dai trapanesi. Settantesimo destro di Ciotti del Favero para a terra in sicurezza. Si arriva così all'ottantasettesimo minuto cross dalla destra per fall del Favero riesce però a controllare la sfera. Cinque minuti di recupero il pericolo più grande arriva proprio in pieno extra time. Su azione d'angolo Mastrantonio non riesce a toccare il pallone in maniera vincente. Finisce 0-0 per il Taranto e un punto per arrivare a quota 2 in classifica. 2 punti in 4 partite una media però decisamente bassa anche per la salvezza.